E' un'anticipazione della deriva autoritaria perché se l'Italicum è sbagliato dal mio punto di vista perché dà più potere al sovrano e meno potere ai cittadini depotenzia la funzione del Parlamento ecco l'idea che un governo possa porre la fiducia su una legge elettorale cioè sul passaggio fondamentale della definizione delle regole del gioco a me pare francamente sconcertante faccio notare che il governo regionale pugliese non ha interferito minimamente nell'attività consigliare di definizione della legge elettorale per la Puglia della legge elettorale regionale perché quella è una materia tipica del legislatore non è una materia del governo è il fatto che il governo invece abbia proposto la legge e addirittura posto la questione di fiducia a me pare molto grave e contraddice la premessa di cui anche il Premier si era fatto portatore e cioè che le regole del gioco bisogna definirle con tutti i giocatori in campo invece non è andata così noi ce ne adontiamo molto perché qui ballano principi fondamentali della democrazia